E allora ben ritrovati Riperiani! Estate tutto a posto? Agosto tutto regolare? Ce l'abbiamo fatta? Con questo settembre ripartirò a fare video anche grazie a questa telecamera nuova che mi hanno regalato che è veramente fichissima e la posso anche guedermi! E quindi volevo chiedervi più che altro se qui sotto nei miei commenti di Facebook se non avete messo mi piace alla mia pagina di Facebook andate su Facebook e mettete mi piace su Riperiani nei commenti qui sotto prenderò diciamo tutti quelli che potranno essere quei consigli su che temi trattare quindi qui sotto potete fare le vostre domande a cui risponderò un po' come alla vecchia facevo tipo tre anni fa il sacco della posta però risponderò con una puntata per ogni domanda perché è troppo disordinato rispondere a tutti in una puntata sola se siete d'accordo e quindi ci sentiamo prestissimo perché grazie a un paio di cose che ho comprato in più potrò anche tipo registrare dal portatile oppure anche se mi capita di fare qualcosa di strano in radio al lavoro avrò la possibilità di registrarlo con un registratore esterno quindi a prestissimo mi raccomando scrivetemi qui sotto alle vostre domande e grazie ancora per essere rimasti su questo canale nonostante che nonostante lo stop di qualche tempo un messaggio chi sarà? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti